Siamo in compagnia di Marco Marchese che fa parte del comitato direttivo della Certi Diritti e anche Certi Diritti Calabria ovviamente, oltre che segretario della FISAC CGL Lamezia a Catanzaro, sei qui oggi insieme a noi il 23 gennaio 2016 per la manifestazione che c'è in 100 piazze italiane Sveglia d'Italia. Cosa ne pensi? Dovevamo esserci insieme alle altre 100 piazze italiane perché oggi, come dicono i cartelli, sono la sveglia, sono la sveglia dei diritti. È passato troppo tempo, siamo gli ultimi in Europa e bisogna sostenere il DDL Cirinna anche se il DDL Cirinna non è proprio quello che la comunità LGBTI chiede perché l'istanza è quella del matrimonio egualitario. È un primo passo, va sostenuto e andrà poi dopo e poi la lotta sicuramente in futuro continuerà. Perfetto, buona manifestazione e buon 23 gennaio 2016. Ciao! Grazie, ciao, buona manifestazione! Grazie, ciao!